Pistola a molla Sig Sauer P230. Pistola con funzionamento meccanico a molla, alla sicura funzionante, fuoco e sicura. Parte superiore zigrinata per fermare il colpo. Caricatore estraibile mediante questa levettina tirandola indietro. Si inserisce i pallini in questa parte qua, lo si carica sulla calciatura ed è pronta per sparare. Ha i loghi incisi sull'arma, originali, come l'originale, sia da una parte che dall'altra. Finta matricola ovviamente. Questa è una pistola prodotta in polimero molto buono. Ha il sistema Bax interno, pesa sui 200 grammi, ha una gittata che è intorno ai 23 metri e esce a 55 metri al secondo. La lunghezza è 170 mm, come quella originale. Interessante il grilletto e la sicura che sono in vero metallo. Lo stesso dicasi del cane, cane sicura e grilletto in metallo vero e internamente la molla è metallica. Grazie. Grazie.